metri verso l'area. Pericolo, ecco il tiro. Palo, attenzione però, è ancora buona. Tacca il Fred. Palla vagante. Ottima qui da giocata. E c'è il gol, palla in mente. Un gol che rende ancora più significativa la distanza tra due spadre, ma ovviamente bisogna mettere l'attenzione. Sono riusciti a battere il portiere con questa splendida conclusione. Attaccante è bravo qui ad avventarsi su questo cross dalla destra e a fare secco il portiere. Non poteva scipare una palla così limpida, no, no, no. Sì. Grazie a tutti.